Pescara è destinata a cambiare volto, parliamo soprattutto in questo caso del centro cittadino perché ci sarà la riqualificazione di Corso Umberto e delle zone centrali della città. Sì, Pescara sta cambiando volto in tutte le sue zone, oggi parliamo del centro, quindi Piazza Sacrocore e Corso Umberto e anche la zona della Madonnina, entrambe cambieranno totalmente perché interveniamo per la lotta al cambiamento climatico con nuove piantumazioni, con nuova sistemazione degli spazi pubblici, un importo di 6 milioni 273 mila euro, tutti i fondi PNRR, inseriremo molti più alberi rispetto a quelli che ci sono oggi, elimineremo quelli purtroppo morti e secchi che stiamo man mano sostituendo in città perché non svolgono più la loro funzione di calmeratore della temperatura, cambieremo la pavimentazione, pavimentazione chiara che non riflette i raggi del sole e quindi migliora le condizioni climatiche della città. Un abbellimento notevolissimo ma non soltanto questo perché c'è il cambiamento climatico che oggi sta condizionando tutte le città e noi vogliamo migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e anche rendere più bella la città. Quando partiranno i lavori? Oggi parliamo dell'approvazione del progetto esecutivo che abbiamo approvato la settimana scorsa, il tempo di fare la gara, realisticamente in estate partiranno i lavori e poi proseguiranno per circa 10-12 mesi, avremo un corso nuovo, Piazza Sacro Cuore totalmente rinnovata e anche la zona della Madonnina che cambierà totalmente il suo volto. Grazie.